ciao amici come state? io bene anche noi benissimo oggi mamma vita ha pensato di fare una sorpresa a figlio gabri e non sa dove lo sto portando ma secondo te dove stiamo andando? chissà chissà secondo te dov'è che vorresti andare? all'olandia ci siamo già stati all'olandia e poi un'altra cosa bellissimissimissima che non hai mai visto cos'è? prova a pensare che ti piaceva tanto che volevi vedere dai vuoi un indizio? no no? non vuoi un indizio? si vuoi un indizio? si allora ti dico una parola tartarughe tartarughe ninja eh sì andiamo al cinema vuoi andare? si sei emozionato? si non te l'aspettavi? no eh volevi tanto vederlo il film delle tartarughe ninja sei pronto? si andiamo? si andiamo eccoci al cinema i biglietti i biglietti e quindi cosa andiamo a vedere? il tartarughe ninja il tartarughe ninja ma tu ci credi? si ma è la prima volta che sei al cinema eh sì è vero andiamo ad arci nell'altro film perché dobbiamo andare al cinema hai visto? guardare i pop corn e i pop corn e quindi ora siamo al cinema e poi cosa faremo alla fine del film? mamma ti fa delle domande e vediamo cosa ti è piaciuto di più del film va bene così lo diciamo ai nostri amici perché per chi vuole andare a vederlo poi il film va bene? diamo dei consigli ok? sei pronto? sì sei pronto? ma lo sai che al cinema si sta in silenzio? per tutto il film e poi non si dorme ok? non ti devi addormentare si mangia i pop corn si mangia i pop corn e non bisogna addormentarti ok va bene? sì sei pronto? sì facciamo vedere un po' il cinema vieni andiamo andiamo a vedere com'è questo cinema così in attesa del film vediamo cosa c'è così poi andiamo a prendere anche i pop corn ma tu non ci credi ma lo sai che questo è uno scherzo? che? è uno scherzo non andiamo al cinema è uno scherzo è uno scherzo ma se hai i biglietti in mano come fa ad essere uno scherzo? dimmi dimmi un po' andiamo andiamo a vedere questo cinema vediamo cosa c'è wow ma è bellissimo questo cinema siamo a Cinelandia Cinelandia guarda che bello ma qui c'è il numero 18 e lì ci sono sì lì c'è il numero delle sale sala 1 dalla 1 alla 8 guarda che bello noi invece sul biglietto cosa siamo? sala 2 sala 2 vediamo siamo sala 3 sala 3 sala 3 guarda questo elefante Gabriele quanto è bello bellissimo questo cinema lo comprerò in un attimo lo comprerai? il cinema compri? sì sì vediamo qui cosa c'è oh pop corn pop corn quattro gusti di pop corn cioccolato caramello classico e pizza ah capito? ci sono più gusti di pop corn hai visto? quelli normali quelli normali certo sono quelli più buoni va bene amici allora dopo vediamo cosa è piaciuto a figlio Gabri di questo film così ce lo dice e soprattutto ci dice se è stato attento sì va bene? sì a dopo ciao ciao eccoci amici siamo al cinema ma Gabriele dove è finito? figlio Gabri sei già in posizione questo è il nostro post questo è il nostro post il numero 5 che bello sei pronto? sì tra un po' inizia andiamo a prendere i pop corn e poi ci sediamo è vero va bene? sì ciao 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 abbiamo preso i pop corn ma quanti pop corn ma è grandissimo li ho già preparati sì è stato velocissimo ma li mangi tutti tu? va bene allora dopo ciao 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 amici abbiamo appena finito di vedere il film le tartarughe ninja è stato bellissimo il primo film di figlio Gabri e allora vediamo cosa ci è piaciuto di più di questo film ci è piaciuto quando il papà ha combattuto ha combattuto quando il ratto il papà delle tartarughe ninja ha combattuto per difenderli poi quando hanno salvato il mondo la città il papà della città dal mostro e poi alla fine quando sono tornati a a scuola e sono diventati dei supereroi per tutti è vero? sì bellissimo questo film amici andate a vederlo perché è davvero bellissimo noi ci siamo divertiti tanto è vero? eh sì eh sì mi raccomando se questo video vi è piaciuto mettetevi tanti like e iscrivetevi al canale ciao